eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi torniamo a parlare del nuovo call of duty 2019 che si fa sempre più insistente essere secondo le indiscrezioni modern warfare 4 mv4 gaming tell ha ricevuto a quanto pare delle fonti esclusive che hanno rivelato che call of duty modern warfare 4 non conterrà una modalità zombies cosa che praticamente ci aspettavamo secondo appunto l'indiscrezione degli ultimi giorni vedendo che hanno parlato di una modalità competitiva perché non abbiamo mai visto una serie zombies all'interno della serie proprio di mv mentre in altri titoli dell'infinity world in altri p sì abbiamo visto poi ogni gioco a partire da call of duty dall'uscita di advanced warfare del 2014 ha sempre contenuto una modalità zombies anche se non sono uscite sempre immediatamente quindi con cinque anni di non morti non stop sembrerebbe appunto che i fan si siano stancati e vogliano qualcosa di nuovo e infatti questa fonte anonima ha rivelato che non ci saranno gli zombies all'interno di modern warfare 4 ma una sorta di nuova modalità survival come avevamo visto all'interno ad esempio di modern warfare 3 la differenza dalla modalità survival alla modalità zombies è ovviamente la ambientazione e la differenza che i nostri nemici non saranno non morti ma ondate di soldati controllati dall'intelligenza artificiale potremo utilizzare la valuta per supporto aereo nuove armi e quindi tante cose per combattere le ondate di soldati appunto nemici quindi non zombies questa fonte non è sicura di quanti elementi survival porteranno all'interno della modalità cooperativa di modern warfare 4 ma sembra proprio sicuro che non ci saranno gli zombies ma soltanto appunto questa nuova modalità che ci permetterà di combattere contro soldati avversari e non non morti staremo a vedere come cambierà quindi l'esperienza cooperativa di call of duty nel prossimo e presunto modern warfare 4 qui sotto nei commenti fatemi sapere se vi aspettate se vi piacerebbe rivedere ancora una volta per un altro anno la modalità zombies in una serie modern warfare perché non l'abbiamo mai visto prima oppure questo continuo presunto della modalità survival di mv3 in evoluzione all'interno di mv4 e noi ci vediamo ad un prossimo video